Pizzeria La Bella Napoli di Feraco Francesco Forno a legna, Friggitoria, Piazza Matteotti, Acri, telefono 0984 95 58 50 Pizzeria La Bella Napoli di Feraco Francesco 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 Grazie a tutti. 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 All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gloria a tutti. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Amo. Dagli Atti degli Apostoli. Preghiamo. 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 Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, il Signore. Quando Giuda fu uscito dal Cenacolo, Gesù disse, ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato con lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Nel cammino del tempo di Pasqua, la liturgia della parola di questa domenica, quinta domenica di Pasqua, ci richiama alla novità della vita cristiana. Vi do un comandamento nuovo. Questa novità che Gesù è venuto a portare, incarnandosi nella storia. E la Chiesa è chiamata ad essere la custode di questa novità. Perché essa sia sempre viva e operante. E sia sempre attuale nel tempo. Sia sempre presente. Non una novità del passato. Sentendo per esempio l'Apocalisse, vivi la città di Dio scendere dal cielo, pronta come una sposa per il suo sposo. Vidi il cielo e la terra nuova. E quelli di prima non c'erano più. Queste parole non sono parole che appartengono a un passato, di cui noi facciamo un semplice ricordo. Ma la novità contenuta nella scrittura, vi do un comandamento nuovo. Cielo e terra nuova. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E la parola sempre presente davanti a noi. Gli Atti degli Apostoli ci parlano del contesto della Chiesa nei suoi primi passi. E c'è un punto centrale nella lettura di oggi, dove dice che in ogni comunità furono costituiti degli anziani. Gli anziani sono i presbiteri, che in greco, anziano, si pronuncia presbitero. E quindi i sacerdoti. I sacerdoti vengono costituiti in ogni comunità perché rendano sempre presente e attuale la novità che Gesù ci ha portato. Una novità perenne attraverso la quale Gesù rinnova tutte le cose. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Il cielo e la terra di prima non ci sono più, sono passate. Ecco, adesso c'è un cielo e una terra nuova. E in che cosa consiste questa novità? Apparentemente in un qualcosa di molto semplice, ma strutturalmente per l'uomo molto difficile. La semplicità c'è data dalle parole di Gesù. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Poiché non c'è un amore più grande di questo. Dare la vita. Perché magari per chi non l'avesse capito bene, come Gesù ci ha amati, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, in un altro passo dice non c'è amore più grande. Dare la vita per i propri amici. E voi siete miei amici. Se farete quel che io vi comando, vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. È un giro continuo. Si richiamano a vicenda questi versetti del Vangelo di Giovanni. Voi siete i miei amici, se farete quel che io vi comando, vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Poiché non c'è un amore più grande che dare la vita per i propri amici. E voi siete i miei amici. E potremmo ripeterlo all'infinito. Perché si richiamano. Ed è l'intento di San Giovanni questo. San Giovanni Apostolo, quando scrive il suo Vangelo, ha proprio questa intenzione. Quello di farci richiamare continuamente dei versetti che si completano e si richiamano a vicenda perché siano sempre presenti nella nostra mente. Infatti non può esserci uno senza l'altro. Questi versetti. Allora, questa è la semplicità, se vogliamo, del ricordarci il contenuto di questa novità. Ma dove sta l'impegno, la difficoltà? L'impegno sta proprio in questo. Gesù è venuto a ristabilire un'immagine perduta dell'uomo. Potremmo dire che Gesù è venuto a portare un nuovo umanesimo. Una proposta nuova di vita per tutta l'umanità. e la novità sta proprio in questo. Noi sappiamo bene dagli studi di sociologia, di psicologia e tutte quelle che sono le scienze umane che l'uomo per sua natura tende all'egoismo. tende a porre al centro se stesso. E se vogliamo questa è stata l'origine anche del peccato originale dove la tentazione verso l'uomo è stata non è vero che se mangerai di quell'albero morirai ma Dio sa che una volta mangiato di quel frutto tu diventerai come lui e quindi potrei fare a meno anche di Dio perché tu sarai il centro dell'universo tu sarai tutto e non avrai bisogno di niente e di nessuno l'egoismo esasperato è la fonte o meglio il punto di partenza del peccato originale l'egoismo esasperato e allora Gesù vuole invertire questi polli e ci dice uomo esci da te stesso uomo se vuoi conoscere veramente te stesso se vuoi realizzare pienamente te stesso ti devi aprire amatevi gli uni gli altri come signore ricordate quante volte a Gesù viene anche rigirata la domanda e chi è il mio prossimo come io devo fare questo e Gesù direttamente senza nessuna domanda da parte dei suoi interlocutori dice amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati poiché non c'è amore più grande di questo che dare la vita e Gesù nel contesto in cui pronuncia queste parole che cosa fa lava i piedi ai suoi apostoli lava i piedi li serve va incontro a loro si abbassa davanti a loro diventa più piccolo non è tanto il gesto di lavare i piedi che ci può fare anche torcere il naso tante volte no perché pensiamo alle nostre povertà anche personale non è tanto il lavare il piede ma è quello che significa lavare il piede era il ruolo del piccolo della persona meno importante all'interno della famiglia e allora abbassarsi vivere nell'umiltà sapere andare incontro all'altro anche con gesti che apparentemente sembrano toglierci la dignità dello stare al centro perché questo è il passaggio colui che lava i piedi è quello che sta ai margini della famiglia è il servo il più piccolo di casa che sta fuori dall'apparenza dalla sala da pranzo sta ai margini allora Gesù ci invita a stare ai margini perché il centro è Dio il centro è Dio amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati ecco allora il passo così difficile così impegnativo che ci chiede Gesù quello di fare un passo indietro a noi stessi un passo indietro a noi stessi un po' Gesù in altri contesti dice chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso metta da parte se stesso scenda dal piedistallo impari l'umiltà rinneghi se stesso prenda ogni giorno la sua croce perché vedete la superbia l'egoismo porta anche a non guardare le nostre fragilità a non riconoscerle questo ci porta l'egoismo a non riconoscere i nostri errori le nostre povertà le nostre fragilità a sentirsi sempre perfetti io dico sempre la parola giusta io faccio sempre quello che è giusto nessuno mi può rimpoverare niente e ci costruiamo un castello intorno a noi un castello impenetrabile dove noi viviamo soli solitari perché il confronto immediatamente ci porta a vedere quello che realmente abbiamo dentro e quindi ci fa riconoscere le nostre povertà e l'uomo vorrebbe stare solo solitario nel suo castello e allora Gesù oggi ci dice esci da questo castello vai incontro a tuo fratello sappi vedere la ricchezza che c'è in lui partendo dalla tua povertà perché quello che manca a te ce l'ha tuo fratello è solo con tuo fratello tu potrai essere pienamente realizzato ma questo succede in maniera reciproca perché quello che poi ho io manca a mio fratello e insieme concludo con un pensiero di Monsignor Tonino Bello che diceva che gli uomini sono degli angeli con una sola ala se non si abbracciano a un'altra persona non riescono a volare perché per volare ci vogliono due ali con una sola ala non si può volare allora gli uomini sono angeli con una sola ala per poter prendere il volo e volare in alto hanno bisogno di abbracciarsi a un altro uomo e completarsi e volare sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti io credo in Dio padre onnipotente creatore creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine patì sotto Ponsio Pilato fu crogifisso morì e fu sepolto discesi agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di Dio padre padre onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri fratelli esprimiamo questo amore reciproco pregando gli uni per gli altri preghiamo in Geno dicendo accresci in noi la fede Signore accresci in noi la fede Signore per la Chiesa di Dio perché in questo tempo oscuro tuttavia pieno di speranza sia segno trasparente di quella comunione d'amore che proviene dal Signore Gesù preghiamo accresci in noi la fede Signore per tutti i credenti in Cristo perché non ricadano sotto le potenze del male ma sempre liberi da ogni compromesso e da ogni paura professino apertamente la loro fede preghiamo accresci in noi la fede Signore per le famiglie provate dalla sofferenza e dalla precarietà della vita perché abbiano fiducia nella provvidenza di Dio che si mostra nell'aiuto concreto della comunità ecclesiale e della società civile preghiamo accresci in noi la fede Signore per questa assemblea liturgica perché sia capace di rendere in gesti concreti di carità il mistero che stiamo celebrando preghiamo accresci in noi la fede e la fede del Signore O Dio grande misericordioso Tu sei stato glorificato nel Tuo Figlio Gesù che per noi ha offerto la Sua vita fa che anche noi possiamo renderti gloria facendo conoscere il Tuo amore ai nostri fratelli per Cristo nostro Signore grazie a tutti O detto a Dio senza di te, al veneno posto di scipì, magnificare la mia vita, vede dentro sé, sempre sei con me, la mia vita, vede dentro sé, sempre sei con me, la mia vita, vede dentro sé, sempre sei con me, la mia vita, vede dentro sé, sempre sei con me, La Gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia Gioia Gesù. La Gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia forza sei tu. Custodiscimi, mia Gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia Gioia Gesù. La Gioia Gesù, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia forza sei tu. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con Te, unico e sommo bene, concedi che la luce della Tua verità sia testimoniata dalla nostra vita per Cristo, nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Signore sia con voi, rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'Assemblea degli Angeli e dei Santi canta l'Himno della Tua gloria. Santo, 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 Santo esitore, Dio dell'universo, i piedi e la terra, sono pieni della Tua gloria, osana nell'arco dei cieli. E' benedetto colui che viene nel nome del Signore, osana nell'arco dei cieli. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio, è nostro Signore. Nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra, offre al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. sempre qui va giro, lo piegare che da un passaggio de God, non puoi riporarei ieri che esclare ieri, il loro peggio per voi, non puoi dire la preghiera di benedizione, doveva fare la preghiera di benedizione, ieri tro Pangino, è un po' di mani, l'unico giro, e ieri come dal passaggio, Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Prendete e bevete. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore. Prendete e bevete. Prendete e bevete. Prendete e bevete. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa per la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, il Beato Angelo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, a te Dio Padre Onnipotente, e ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turgamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete i tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno di pace. Angello di Dio che toglie i peccati del mondo, Angello di Dio che toglie i peccati del mondo, Angello di Dio che toglie i peccati del mondo, Comunione spirituale per tutti gli ammalati e gli anziani che ci seguono attraverso la televisione. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Altre più, più mi abbandono a te, di te a quello che mi piace, grazie di cui mi fai per me, spero solamente in te. Tu te, si tocca il cuore, tu in me e in tutti i fratelli, tu te, ti libero di più, fare quello che vuoi. Altre più, più mi abbandono a te, di te a quello che mi piace, grazie di cui mi fai per me, spero solamente in te. Dammi chiederti al canto, dammi d'essere l'amore. Nelle tue mani, te porto la mia anima, con tutto l'amore del mio cuore. Mi abbandono a te, di te a quello che mi piace, grazie di cui mi fai per me. Sì. 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 Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questa sera qui in Basilica ci sarà la celebrazione solenne presieduta da Padre Francesco, il novello sacerdote, ordinato qui in Basilica due settimane fa e che questa sera celebra per la prima volta solennemente in Basilica. Poi il 30 di aprile, sabato prossimo, come ogni 30 ci sforziamo di fare la celebrazione in onore del Beato Angelo e in questa circostanza ci sarà anche il Giubileo del Comitato. Inizieremo la Santa Messa alle 18 nella Chiesa Piccola e poi verremo in processione qui in Basilica presso l'urna del Beato Angelo. Questi momenti che sono necessari in questo anno straordinario della misericordia, l'anno giubilare, sono raccomandati nelle Chiese dove c'è la Porta Santa, cioè che ci siano momenti in cui si facciano delle processioni per attraversare comunitariamente la Porta Santa e quindi vivere comunitariamente il Giubileo. Sempre nella celebrazione del 30 metteremo delle intenzioni particolari, persone che ringraziano il Beato Angelo per intercessioni e grazie ricevute, persone che si affidano alla preghiera del Beato Angelo. Ricordatevi che noi abbiamo un grande Mediatore perché abbiamo un Santo in mezzo a noi e i Santi sono nostri amici e intercedono presso il Signore. E quindi affidiamoci al Beato Angelo e a sua volta il Beato Angelo poi ci dice di affidarci alla Vergine Maria, la madre dei bisogni. Quindi quando abbiamo bisogno andiamo dalla Madonna addolorata, quella che ci ha lasciato il Beato Angelo e che ha ricevuto la forza di intercedere per tutto il popolo di Acre perché è stato consacrato il popolo di Acre alla Madonna addolorata, alla Madonna addolorata, alla Madonna dei bisogni e quindi andiamo a lei. Noi quando veniamo interpellati perché ci chiedono le preghiere, le famiglie, a noi frati cappuccini, il primo pensiero per noi è quello di andare davanti alla Madonna addolorata e mettere quell'intenzione nelle sue mani. Come stiamo facendo in questi giorni per diverse persone che sono ammalate, per le famiglie in difficoltà, tutto nelle mani della Madonna addolorata perché lei è la mamma nostra, la Madonna dei bisogni. E per questo continuiamo noi a pregare per alcuni fratelli in particolare e poi per tutte le vostre necessità che avete nel cuore, per Antonio, per Angelo, per alcune famiglie della nostra comunità. Mettiamo nelle mani del Beato Angelo, nelle mani della Madonna addolorata. Beato Angelo, nelle mani della Madonna addolorata, Beato Angelo d'Acri, il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Abbia misericordia di voi e vi benedica. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.